Ciao a tutti, oggi secondo episodio della serie in cui vado a comparare due aziende che operano più o meno nello stesso settore Oggi andremo a vedere Intel vs AMD Nel primo episodio abbiamo visto Visa vs Mastercard Ma prima di iniziare volevo dirvi due cose La prima è ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando in questo mese in cui faccio un video al giorno E seconda cosa, volevo ricordarvi che stasera uscirà la trimestrale di Meta E 99 su 100, se questo video qua raggiunge un buon numero di like e commenti Domani vi porto l'analisi della trimestrale e vi farò vedere qual è la mia valutazione attuale appunto su Meta Ci tengo a precisare che questa serie qua non la faccio andando a comparare il modello di business Ma andiamo a comparare semplicemente quali sono le valutazioni attuali Per farlo utilizzo un algoritmo che ho creato io Che prende all'incirca una quarantina di input che sono indici di bilancio, multipli, rapporti E tante altre cose che mi vanno alla fine a decretare un punteggio da 1 a 10 Che è il rating che attribuisco io all'azienda Ed è anche quello che sostanzialmente faccio vedere in ogni mio video Come potete vedere qua sono andato a prendermi l'ultimo sotto patrimoniale di Intel E l'ultimo sotto patrimoniale di AMD Mi sono calcolato qualche rapporto E ora andiamo a vedere in quali sostanzialmente è meglio AMD In quale è sostanzialmente meglio Intel Diciamo che gli indicatori che tengono contro il sotto patrimoniale Sono praticamente questi qua, ve li evidenzio qua in rosso E sostanzialmente andiamo a vedere quante volte magari il cash e cash equivalent Riesce a coprire il debito Quante volte riesce a coprire il debito a breve termine Quante volte il patrimonio netto è più grande rispetto al debito generale E quindi sostanzialmente possiamo vedere a prima occhiata Come a mio avviso come sotto patrimoniale sia nettamente messa meglio AMD Perché sostanzialmente l'unica parte in cui Intel batte AMD È il fatto che abbia molto cash in relazione ai debiti a breve termine Che è quello che praticamente riscontriamo qua Perché Intel più o meno ha 28 miliardi in cash E debiti a breve termine di 4 Per quanto riguarda invece i margini del conto economico Possiamo vedere come sia nettamente messa meglio Intel Infatti a parte il gross margin che sono praticamente molto simili Intel batte AMD su tutti gli altri margini Ma questo è dovuto principalmente al fatto che AMD stia crescendo a ritmi molto più elevati E questo porta principalmente a aumentare il più possibile i ricavi Sostanzialmente una volta raggiunto una crescita adeguata Si pensa al miglioramento dei margini Quindi sotto questo aspetto qua diciamo che non c'è nemmeno troppo paragoni Infatti il net margin di Intel è praticamente il doppio rispetto a quello di AMD Che è abbastanza basso lo devo ammettere Infatti a 5,59 di net margin Per quanto riguarda il ROIC abbiamo entrambi i ROIC molto molto bassi Infatti sono 1,56 per Intel e 2,06 per AMD Non c'è nemmeno di nuovo storia sui multipli di prezzo Semplicemente perché hanno crescite totalmente diverse Considerate che Intel ha un price earning di 14 Mentre AMD un price earning di 45 Capite che c'è tanta differenza E stessa cosa vale per il price to 6 Dovete anche considerare però che ovviamente Intel ha un price earning più basso Semplicemente perché cresce meno della metà di AMD Ed è qui che sostanzialmente ci viene incontro il PEG Che è l'indicatore che mette in relazione il price earnings con la crescita Infatti a numeratore avremo il PE e a denominatore avremo la crescita percentuale Considerate che tendenzialmente un PE sotto l'1 è molto molto buono Mi corregolo a dire un PEG sotto l'1 è molto molto buono Attualmente AMD ha un PEG di 1,88 che è molto elevato Per quanto riguarda alcuni indicatori tecnici possiamo vedere come attualmente Intel sia meno shortata rispetto ad AMD ma entrambe sono poco shortate Gli analisti prevedono una crescita qua ad un anno all'incirca di un 21% per AMD E un 0,39 per Intel quindi sostanzialmente una crescita nulla La principale divergenza secondo me è il fatto che Intel ha un dividend yield del 5% attuale E AMD 0 perché non rilascia dividendi Ma ora andiamo a vedere un po' la parte succolenta Ovvero andiamo a vedere il discounted cash flow Le stime di crescita da qua a 3 anni per gli utili per azione E di conseguenza anche il profitto che si può trarre tra capital gain e dividend yield E un rating finale per l'azienda Andiamo a vedere quindi le cose più importanti Ovvero la stima sulla crescita degli utili per azione da qua a 3 anni A mio avviso ma anche secondo gli analisti AMD dovrebbe crescere a ritmi doppi rispetto a quelli di Intel Infatti le stime di crescita da anno per AMD sono all'incirca di un 24% anno Mentre Intel solo del 9-10% Per quanto riguarda il discounted cash flow otteniamo una sottovalutazione del 24% per Intel Mentre per AMD una corretta valutazione A mio avviso però tenendo conto del mio algoritmo e della valutazione sui multipli Da 4 anni su AMD potremmo fare all'incirca un 47% di guadagno Mentre su Intel considerando anche il dividendo solo un 30% anno Per quanto riguarda il rating finale Cioè il rating che il mio algoritmo attribuisce ad entrambe le aziende Vediamo che Intel è sostanzialmente migliore di AMD Tenendo conto di tutto Quindi della crescita dei multipli e di altre variabili Detto questo io ho entrambe le aziende in portafoglio Quindi sostanzialmente non dovrei scegliere Ma se proprio dovessi farlo probabilmente andrei su Intel Questo principalmente dovuto al fatto che a mio avviso c'è un risk reward più elevato Detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like o un commento e ci becchiamo al prossimo video Ciao a tutti